Ma tu, di cosa vivi? Mi chiede Bom Boom. Bom Boom, bel nome, originale, Bom Boom. Ho già risposto a questa domanda, ma ogni tanto risalta fuori sì che vediamo di rispondere. Da dove partiamo? Partiamo, scorreva l'anno 1900. 1900. Ero alle medie, immerso in una classe di bambini benestanti, anzi ricchi, molto ricchi. Sicché mi sorge quel desiderio di potermi permettere, anch'io, certi giochi. Sicché inizio a vendere Scooby-Doo. Nella vita hai sempre due opzioni. O ti lamenti quando servi gli altri, oppure ti fai ispirare. La fortuna è che essere stato immerso in un mondo di bambini ricchi mi ha ispirato. E quindi mi metto a vendere Scooby-Doo. Dopodiché cresco, bra-ba-bla, trallallero, trallallà. Faccio altre cose, sono intraprendente. E inizio a organizzare feste. Inizio a organizzare feste. Inizio a vendere appunti all'università. Prendo le fotocopie, organizzo una vera organizzazione. Arrivavo con la mia fantastica panda rossa. Aprivo il baule e vendevo tutte queste fotocopie a tutti. Eccetera. Poi vado avanti, apro un bar in centro a Milano. Dopodiché inizio a avvicinarmi sempre di più al mondo della crescita personale e al mondo delle piante. Inizio a scoprire i benefici delle piante. Mi metto e avvio un'organizzazione che si occupa della vendita di prodotti naturali. Dopodiché vendo, scopro il mondo digitale, prima che arrivasse lo smart working. Molto prima. Fortunatamente sono madre lingua inglese, quindi vado a studiare con maestri americani, maestri inglesi e provenienti da tutte le parti del mondo. E inizio a diffondere questa conoscenza. Le persone stupite di come io vendessi, perché prima vendevo porta a porta, door to door. Gheni sì! C'è qualcuno? Mi aprivo la porta oppure no. E quindi inizio a diffondere questa conoscenza organizzando dei corsi di formazione dove condividevo il mio sapere. Eccetera. Tutto questo mi ha permesso di crearmi delle rendite che mi hanno dato la grande opportunità negli anni, tanti anni, di viaggiare e di conoscere persone, maestri, guru straordinari. Fino a quando il mondo invisibile mi ha preso per le orecchie e mi ha detto adesso basta, adesso hai finito di giocare. L'universo ti ha dato l'opportunità di avere queste entrate affinché tu potessi conoscere, scoprire e restituire. E quindi continuo a girare il mondo con intenzioni diverse. Quindi abbiamo creato la fondazione di Sonkowasi, che ha l'obiettivo di aiutare i bimbi in giro per il mondo. In questo momento siamo in Marocco. Quindi abbiamo progetti in Africa, in India, in Sud America e al tempo stesso condivido il sapere che ho appreso da grandi maestri. Quindi sempre dal lato piante che mi segue da tanti anni, piante maestre e tecniche che aiutano le persone a stare meglio. E nello specifico aiutiamo persone ad entrare in connessione profonda con loro stesse, a entrare nel loro cuore attraverso le cerimonie di The Answer, a tranquillizzare la mente. In un progetto straordinario dove tutti vincono, i partecipanti che vengono alle cerimonie di The Answer ottengono un beneficio. In cambio di questo beneficio fanno delle donazioni che vanno a beneficio della fondazione di Sonkowasi, che aiuta i bimbi e la natura in giro per il mondo, là, in quei luoghi dove la conoscenza è stata appresa. E quindi è un bel giro. Quindi questa è la storia breve della vacca Vittoria. La vacca è ancora viva, ma la storia è finita. La vacca è ancora viva, ma la storia è finita.